benissimo adesso facciamo una taccettina sfiziosa sfiziosa delle bruschettine che adesso andremo a mettere in forno vedete sono piccoline questa era una baguette che io ho affettato adesso ci mettiamo un pochino di sale e olio e la mettiamo in forno per qualche minuto a 200 gradi in modo che si chiusciti ok o l'estradigine di oliva un pochettino di sale se volete potete si può mettere anche un po di rosmarino ecco qua e andiamo a mettere in forno per una per qualche minuto tempo diventa bella bruschettato ci rivediamo tra pochi minuti ciao a fra poco